ciao dunque stasera parliamo stanotte parliamo di Frank Ocean Frank Ocean è di Blonde il suo secondo disco sarà un video lungo vi annuncio già questa cosa è tardi, sono le 2.48 di notte ho appena finito di ascoltare il disco che è uscito a sorpresa appunto questa notte fra il 20 e il 21 di agosto sarà un video lungo perché ci sono tante cose da dire sicuramente guarderò da una parte non che io sia il più bravo a fare i video anzi però guarderò un po' da una parte e dall'altra perché ho davanti a me la tracklist del disco e i commenti che mi sono scritto che sono un po' il primo ascolto opinione caldo ci sono tante cose da dire su questo disco partiamo dalla dalla prima che è fondamentalmente la diciamo la genesi di questo album come è nato per quelli di voi che non lo conoscesse Frank Ocean è un artista molto bravo un cantautore molto 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 talentuoso che ha fatto il suo debutto nel mondo della musica 4 anni fa con il suo primo disco Channel Orange che è stato un disco super iper acclamato dalla critica personalissimo opinione mi è piaciuto è un bel disco non è un capolavoro come tutti hanno detto secondo me ma poi magari vi spiego anche il perché è un bel disco è un bel disco che ha creato una sorta di aurea di 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 misticismo intorno a questo artista probabilmente esagerata nel senso che lui ha scritto un bel disco e soprattutto ha scritto e collaborato con altri artisti su tutti Beyoncé, Carrie West Jay-Z per delle canzoni sia in qualità di songwriter sia in qualità di proprio di di cantante che sono state delle canzoni veramente molto 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 belle fra cui Superwoman di Beyoncé e fra le altre No Church in the Wild di Jay-Z e Carrie West in Watch the Throne che cosa succede appunto si è creato quello che viene chiamato hype l'hype è l'aspettativa l'aspettativa nei confronti di un disco che che fatica ad uscire no e che cosa ha fatto Franco Sciampiano Piano ha inviato in maniere varie ed eventuali dei segnali dei segnali ma veramente pochissima roba rispetto ad altri dei segnali che puntavano appunto alla pubblicazione di un album indicativamente fra luglio e agosto del 2016 un album che a un certo punto si sarebbe dovuto chiamare Boys Don't Cry è stato talmente bravo che tutti testate giornalistiche importanti comprese italiane e internazionali anzi prima internazionali poi italiane che ci sono cascate sono appunto cascate nella trappola perché il disco in realtà si è chiamato Blonde non capisco il motivo di questa scelta non capisco che cosa ci sia dietro non capisco neanche il perché l'abbia chiamato Blonde perché nessuna delle tracce all'interno della tracklist si chiama Blonde probabilmente è tardi non ho sentito benissimo tutti i testi delle canzoni c'è un Blonde da qualche parte e lui da lì ha preso ispirazione quando si crea hype quando si creano aspettative per carità non che sia stato lui a creare aspettative cioè la gente che si crea aspettative non sei tu che crea aspettative tranne in certi casi Legacy una Lady Gaga di Artpop che lì si aveva creato un hype lui in realtà semplicemente non si è fatto sentire per una vita che cosa succede però che appunto più aspettative tu hai tanto più poi c'è la possibilità di restare delusi ed è in soldoni quello che ho percepito io io sono rimasto delusore a questo disco dal primo ascolto poi magari da qua ai prossimi mesi diventerai un disco preferito nel 2016 cosa che veramente dubito perché è un disco difficile è un disco molto difficile è un disco che esagera in tanti momenti a mio avviso e tira tira troppo la corda tirare la corda può andare bene in certi momenti se sei un artista X può andare meno bene in altri momenti può andare meno bene nel momento in cui tirare la corda significa dare anche creare delle canzoni che sono al limite del cacofonico e qui apriamo una piccola parentesi io non ho mai ben capito come puro diciamo persona amatoriale all'interno della musica che cosa sia la qualità artistica e musicale per me la qualità artistica di una canzone la qualità in generale di una canzone è composta da un livello di orecchiabilità che per me è fondamentale è un livello di testo è un livello anche di produzione e di di storia che c'è dietro una certa canzone se il pulcino non ha nessun tipo di di storia alle spalle ma è pura stupidità ci sono altre canzoni invece che dietro hanno tutta una storia un loro un loro vissuto no? e sicuramente molte delle canzoni presenti su questo disco in realtà sono valide musicalmente parlando da un punto di vista qualitativo per gli esperti di musica per chi si occupa di produzioni però dal mio punto di vista ci vuole anche ed è fondamentale una parte di orecchiabilità perché altrimenti tu non ascolteresti musica se non hai piacere ad ascoltare un pezzo e questo è il caso di tante delle canzoni di Blonde ci sono dei momenti molto belli in questo disco momenti molto piacevoli c'è una canzone che per esempio mi ha colpito fin dalla prima volta che è Pink and White Pink Plus White anzi che è un test che è interessante questa cosa perché è una canzone che è stata se non ho capito male scritta anche con Beyonce e quando ho sentito questa canzone ho detto a me questa canzone ricorda Speaker Box di Under 3000 ecco che l'orario si fa sentire mi viene in mente Big Boy ma non si chiama Big Boy a un vuoto scusatemi insomma gli Outcast e e quindi ho detto questo mi ricorda Speaker Box l'altra parte era della Blow tant'è vero che poi Under 3000 c'è in questo disco si sente nel pezzo solo si chiama solo il pezzo in cui c'è Under 3000 e dalla canzone piacevole è una canzone molto delicata delle sonorità appunto delicate toccante anche se vogliamo e non è neanche l'unica anche Be Yourself mi è piaciuta fin da subito un sacco per il resto tutte canzoni anche Siegfried se così si pronuncia scusatemi la pronuncia mi è mi è mi è piaciuta abbastanza non mi sono dispiaciute in realtà neanche le prime due canzoni Nikes e Ivy Nikes è stata anticipata qualche tempo qualche ora prima su su vari social su Apple Music eccetera eccetera quindi credo sia il primo singolo però tutto il resto è sperimentazione sperimentazione è portata molto al di là ci sono tanti pezzi che iniziano in un modo e finiscono in una maniera completamente diversa cambi di tono i testi delle canzoni io personalmente sono riuscito ad apprezzarli poco per esempio perché sono molto vattate come canzoni non c'è una qualità sonora che ti permetta di distinguere vabbè che sono anche io che non sono madrelingua per cui ovvio che se lo ascolta le due di notte magari non capisco però c'è qualcosa che non mi convince c'è qualcosa che non mi convince in tanti pezzi questa è un'opinione generale un'opinione che ripeto magari nel corso delle prossime ore riascoltando il disco varie volte cosa che non farò in realtà perché personalmente e mi piange il cuore parlando di Frank Ocean non ho voglia di riascoltare questo disco più di due o tre volte è un'opinione generale ripeto su un album che ha deluso le aspettative io mi aspettavo un Channel Orange Part 2 se vogliamo 2.0 in realtà già dalle sonorità che avevo sentito su Endless come avevo scritto sul blog ma anche tramite quell'inutile streaming di ore e ore e ore per presentare il disco in maniera appunto particolare eccetera ecco non sono rimasto non ero rimasto soddisfatto e avevo avuto il sentore che si sarebbe trattato di un disco così questo tipo di sonorità sono da ritrovarsi fra le altre cose nell'ultimo disco di Kanye West che si chiama The Life of Pablo un disco che ho fatto tanta fatica ad ascoltare tanta fatica ad censire ma che mi ha convinto almeno probabilmente al primo ascolto più di questo l'ho trovato più incisivo questo invece ragazzi mi dispiace dirlo ma così così oso mi permetto chiunque vi dica chiunque scriva che questo disco è un capolavoro perché ci saranno sicuramente quelli che si metteranno a scrivere che è un disco magnifico spettacolare meraviglioso il disco dell'anno secondo me si sbagliano secondo me si sbagliano perché è un disco che a tratti è quasi pretenzioso è un disco che vuole troppo da se stesso e in realtà non ottiene il risultato sperato è una tendenza sicuramente quella di fare gli alternativi se così vogliamo dire però bisogna essere anche in grado di fargli gli alternativi ci ha provato Kanye West e ci è riuscito devo dire in maniera abbastanza convincente anche col disco precedente con Jesus ci era riuscito ci ha provicchiato Beyoncé nell'ultimo disco Lemonade che è un disco magnifico però mantenendo il suo R&B mantenendo la soul music qui invece Frank secondo me si è perso un po' per strada perdendo anche quel soul quell'R&B a tratti veramente delizioso che abbiamo trovato in un disco come Channel Orange andate a sentirvi Thinking About You andate a sentirvi Pyramids andate a sentirvi del disco precedente Nova Kane andate a sentirvi Lost sempre di Channel Orange andate a sentirvi mi manca un attimo di vuoto Kids la canzone si chiama Kids ma non mi viene in mente il titolo esatto vi chiedo scusa scusate l'ora comunque Rich Kids se non sbaglio si chiama ecco adesso mi è venuto detto questo questa è un po' la mia opinione generale scusate un po' i momenti in cui mi perdo citarai che mi facesse sapere cosa ne pensate di questo disco sto completando la recensione la ritrovate qua poi sotto appunto nell'info box e direi che ci vediamo e sentiamo alla prossima e ciao 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 ciao